che bello, ci stiamo divertendo, che bello, siiii ragazzi non c'è la vostra mamma mia, no mamma allora serve qualcuno che badi a voi, si si stiamo andando in altalena, eh mi vedo, mi vedo mi scusi bo, baderebbe le mie figlie per cinque minuti, vi grazie certamente ragazza madre, me ne occuperò io di loro, con immenso piacere scusi, una domanda, cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene, si vede proprio che lei è una brava persona grazie 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 grazie